ci troviamo presso la diga della verzasca nei comuni di gordola e tenero contra la diga è estremamente famosa perché delimita il fiume verzasca e ospita la famosa centrale idroelettrica che serve tutto il canton ticino questa diga è del 1960 il mio anno di nascita è stata costruita in cinque anni e inaugurata nel 1966 ci troviamo qui nella parte alta della diga famosa per il salto di james bond 007 interpretato da pierce brosnan nel film golden eye del 1995 nel compresso della diga abbiamo un totale di quattro lift e di cui due molto importanti uno si trova nella centrale delle turbine con una corsa di più di 200 metri il secondo si trova nella parete interna della diga anch'esso con una corsa di 200 e più metri i lift schindler vengono utilizzati quotidianamente sia dal personale della diga e sia dalle ditte esterne per la manutenzione delle turbine della centrale